Ciao a tutti, oggi ultimo video del 2022 in cui vi farò gli auguri di Natale e di Buonanno e vi dirò anche quali sono gli appuntamenti che ci saranno qui sul mio canale in queste vacanze natalizie. Prima però colgo l'occasione per ringraziarvi uno per uno per avermi seguito in questo anno, un anno che per quanto riguarda il popolo della Notte ovviamente è stato l'anno della rinascita e della ripresa, soprattutto dopo comunque due anni 2020-2021 che sono stati molto difficili, che ci hanno visto costretti ovviamente a sospendere le nostre attività e le nostre abitudini, però nel 2022 si è ritornati alla normalità. Quindi per quanto riguarda invece il mio canale, quest'anno è stato molto seguito e vi ringrazio moltissimo, è cresciuto molto, l'anno scorso ero qui proprio in questo periodo a ringraziarvi per aver superato i 1000 iscritti, quest'anno sono qui a dirvi grazie per aver raggiunto quasi i 2000 iscritti, 2000 iscritti che li raggiungerò probabilmente nei primi mesi del 2023, comunque vuol dire che in un anno ci sono stati quasi 1000 iscritti in più e di questo vi devo ringraziare veramente moltissimo. Grazie anche a tutti voi se questo canale cresce e continua ad avere spunti interessanti, perché mi suggerite anche i video da fare, mi suggerite gli argomenti, i contenuti da portare, quindi continuate veramente così perché mi state dando veramente una mano grandissima e soprattutto comunque fate in modo che questo canale cresca e venga conosciuto da più persone possibili, che poi è quello che conta perché alla fine l'obiettivo del mio canale, per chi mi segue ormai da tempo lo sa, è quello sia di far ricordare gli anni 90-2000 a chi li ha vissuti, ma soprattutto farli conoscere anche nei minimi particolari a chi invece purtroppo non li ha vissuti o li ha vissuti solo di striscio come il sottoscritto. Detto questo comunque continuate quindi a seguirmi e in questi giorni, quindi nelle vacanze di Natale, ci saranno comunque i video lunedì, mercoledì e venerdì, tranne lunedì 26 dicembre che ovviamente è festa e non ci sarà nessun video, però gli altri giorni canonici ci saranno i tributi ai DJ e producer degli anni 90-2000 come abbiamo fatto nel mese di giugno e luglio, visto che avranno funzionato, continueranno anche durante queste vacanze di Natale. E poi invece sabato 31 dicembre ci sarà la classifica finale dei brani più votati da voi andati in onda nel DJ Piazza in The Mix in questo 2022, siete stati veramente tantissimi a votare e vi ringrazio molto e quindi vedremo la classifica suddivisa in tre parti, una top 10 dedicata all'house, una top 10 dedicata alla dance e una top 10 dedicata alla tecno. Vedremo quindi quali sono i brani più votati e quindi i vostri preferiti. E poi invece le domeniche ci sarà l'appuntamento con l'Heavy Rotation dalle 16 a mezzanotte e l'appuntamento speciale domenica 1 gennaio con il Capodanno Progressivo 8 ore di musica Progressivo e derivati. Da lunedì 9 gennaio invece ricominceranno i nuovi video. Quindi auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un felice e sereno 2023 e ci vediamo presto!